Torniamo a parlare di genetica, torniamo a parlare di malattie genetiche, è un periodo che ci tocca spesso trattare questo tema. Cosa significa? Significa che la genetica sta veramente facendo passi enormi in avanti e che soprattutto le sue declinazioni di ricerca nella clinica terapica hanno un significato ben preciso e concreto. Questo stiamo osservando almeno da un anno a questa parte. Oggi parliamo di un'ultima sfida così come i giornali hanno titolato. Ci viene dall'azienda amica dell'ospedale, ospedaliera universitaria di Padova ed è quella di, spero di non sbagliare le terminologie perché bisogna stare attenti, ma in qualche modo di andare a spezzare all'origine la catena delle malattie ereditarie di cui tante volte abbiamo parlato in queste pubblicazioni. Avviene presso una prestigiosa unità operativa complessa è quella di genetica ed epidemiologia clinica che è diretta dal professor Leonardo Salviati che è il nostro ospite. Noi che siamo antichi ormai di tempi e di anni lo ricordiamo protagonista anche di una certa città della speranza di cui non si è mai mai dimenticata la grande, importante eredità che ha lasciato proprio alla ricerca. Il professor Salviati sarà nostro ospite dopo la sigla. Vediamo allora il nostro benvenuto, è un piacere conoscerla direttamente e personalmente, il professor Salviati. Buona serata. Grazie di aver iniziato. Allora, vediamo come introdurre l'argomento e poi lascerò a lei la spiegazione. Intanto, va detto, malattie genetiche, si dice che voi state per combattere, beh, intanto da sempre, da sempre va detto, è prestigiosa quella unità, i disturbi causati da errori del DNA, come si suol dire, che hanno origine in un'alterazione di un gene. Adesso eccola questa sfida, spezzare la catena delle malattie ereditarie. E non stiamo parlando di una cosa di poco conto, quindi ci introduca a questo argomento. Qual è il tema che oggi trattiamo? Beh, allora, in questo momento ci sono varie iniziative che apte appunto a cercare di fare prevenzione primaria di questo tipo di malattie. e il primo livello che si può fare è quello dello screening di popolazione. Lo screening di popolazione in questo momento però è limitato a due malattie genetiche, che sono la fibrolicistica e l'anemia mediterranea e le altre patologie dell'emoglobina. Perché sono patologie, noi le chiamiamo, otosomiche recessive. Ciò significa che sono a rischio di avere un figlio ammalato le coppie in cui tutti e due i componenti sono portatori sani di queste condizioni. I portatori sani sono, come dice appunto la parola, sani, quindi non hanno la malattia, ma possono essere individuati attraverso specifici test. Quindi in questi anni, ormai sono parecchi anni che questi screening sono in corso, e questo permette appunto di identificare nella popolazione generale apparentemente non a rischio, quindi non nelle famiglie in cui c'è una storia familiare precisa per queste malattie, che sono una minoranza in realtà, ma di identificarli nella popolazione generale per poter poi appunto informarli che sono effettivamente, hanno un rischio aumentato, perché il rischio nel caso di questo tipo di malattie per una coppia è del 25% ad ogni gravidanza di avere un figlio. A questo punto le opzioni che si possono proporre sono varie, uno è che vanno appunto dalla semplice diagnosi prenatale, che è quella che viene anche questa fatta da molti anni. Adesso abbiamo un'opzione in più, che è la cosiddetta diagnosi preimpianto, che è un processo che prevede, in questi casi, di fare una fecondazione assistita, quindi una fecondazione in vitro, e di andare a vedere nei vari embrioni prodotti quali sono effettivamente affetti dalla malattia e quali no, e ad andare a impiantare solo quelli affetti. Questo è un processo che in questo momento viene eseguito essenzialmente da centri privati, il nostro centro sta attivando un programma di questo tipo. Allora, professore, vediamo di entrare... Sì, questo è in realtà valido per qualsiasi malattia genetica, il problema è che nelle altre forme di malattia non c'è la possibilità in questo momento di fare uno screening, se non per un'altra condizione di cui parleremo dopo, eventualmente. Per cui, in realtà, il problema principale dello screening è un problema ancora aperto, ma questo pone tutta una serie di questioni tecniche e anche etiche, che se vuole possiamo discuterne. però, di fatto, fa sì che attualmente il punto di screening proposti che sono riconosciuti dal livello della regione sono questi due, in epoca preconcezionale. Dopodiché ci possono essere altri screening, ma hanno delle difficoltà. E il motivo che queste due patologie sono... è possibile fare lo screening è perché sono le più comuni nella nostra popolazione. In altre popolazioni sono altre le malattie che si screenano. Se uno va in Israele o comunque nelle comunità ebraiche, in America, in Giro per l'Europa, loro hanno un altro pannello di malattie che fanno lo screening, che comprendono anche fibrolicistica ed emogluminopatia. Ma, per esempio, screenano la malattia di Teisax, che noi non facciamo. Ma perché? Perché la malattia di Teisax è molto frequente presso alcune popolazioni ebraiche. Uno su tre mila è affetto. Da noi è uno su trecentomila, per cui non avrebbe nessun senso fare uno screening per una malattia del genere. e così per altre malattie. Allora, professore, credo che il quadro sia ben chiaro, l'abbè delineato, ma cerchiamo di dare qualche risposta anche semplice, cioè facciamo capire cosa significa spezzare all'origine questa catena delle malattie ereditarie. Ripeto, l'unica possibilità che in questo momento andiamo è di fare lo screening della popolazione dei portatori sani. Ma è una cosa molto complessa. Perché? Perché è ancora molto difficile nella maggior parte dei casi progettare dei test che permettano in maniera abbastanza precisa di dire ad una persona è portatore o no. Ecco, quindi lei ha parlato di mi pare di avermi segnato del test genetico preimpianto. Allora, significa che voi cominciate gli studi addirittura scusami, ho messo la domanda. Quindi prima della fecondazione in poche parole. Certo. Ecco. E in questa diagnosi preimpianto cosa fa? Cosa dice questo test? È possibile solo nelle famiglie in cui c'è già un paziente con una malattia genetica oppure perché sono stati scoperti attraverso lo screening. Ma non è proponibile a tutti. Certo. È proponibile solo alle famiglie in cui c'è un primo figlio affetto o un genitore affetto da una malattia di tipo dominante o storia familiare per una malattia legata all'X ma sono situazioni ben specifiche oppure 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 appunto quelle identificate dai programmi di screening. Ma i programmi di screening sono in questo momento limitati a poche patologie. Ecco. Allora veniamo ancora qua. Dunque un esame mirato su una specifica chiamiamola anomalia cromosomica per farci capire oppure su una malattia genetica che è presente in quella famiglia. Ma è necessario quindi sapere che tipo di patologia si sta cercando. Ho capito bene? Ecco. Esatto. Esatto. Per cui di fatto di fatto in questo momento in questo momento non c'è la possibilità di utilizzare queste tecniche a tappeto nella popolazione. E certo. Certo. Senta. Di quali patologie neurodegenerative o sindromi stiamo parlando? Anche per far capire le persone che si seguono. Di nessuna. Come screening. L'unica che per cui adesso può creare lo screening neonatale che è una cosa diversa. una cosa completamente diversa perché si fa nel neonato e si fa per le malattie che sono invece trattabili è la profia muscolare spinale che è una malattia degenerativa non del cervello ma dei motoneuroni periferici. È una malattia che fino a poco tempo fa era mortale e adesso abbiamo delle terapie efficaci che però devono essere messe in messe in atto il prima possibile per poter funzionare. Per cui nelle prossime settimane non so dire la data esatta ma credo che sarà entro l'anno partirà un programma di screening in altre regioni è già partito ma noi siamo proprio stiamo attivando c'è proprio questione di settimane non dico giorni perché credo che non sia il primo novembre probabilmente il primo dicembre però appunto è questione veramente brevissima tutti i neonati per cui già vengono scrinati per una serie di malattie che sono malattie per lo più del metabolismo verranno scrinati anche per questa forma ma ripeto lo scopo è diverso non è quello di prevenire la malattia ma è quello di prevenire i danni della malattia lo screening neonatale soprattutto lo screening neonatale allargato il famoso screening metabolico per capirci giusto? esatto questa è un'estensione dello screening metabolico allargato che viene fatto a Vicenza a Vicenza mi scusi tradisco le mie origini a Verona e a Padova i due centri dello screening screening metabolico allargato e alle varie patologie che già adesso non vengono scrinate si aggiungerà anche la trachea muscolare che sarebbe una patologia potenzialmente scrinabile anche nella popolazione prima in epoca preconcezionale ma sono questioni di politica sanitaria perché lo screening è semplice ed è disponibile un test poco costoso e altamente specifico che riesce a identificare la stragrande maggioranza dei portatori sani ma qui è una questione di politica sanitaria per cui in questo momento non si non si è ancora parlato di questo tipo di programma in altri posti in altre nazioni sono partiti dei progetti il pilota tecnicamente è fattibile però appunto il preconcezionale è ancora problematico perché per vari motivi perché sono disponibili anche presso i laboratori privati alcuni pannelli di portatori si possono fare si possono fare alcune altre malattie abbastanza in maniera abbastanza semplice ma questo è un qualcosa che non è ancora implementato a livello del sistema sanitario nazionale o regionale ma anche lì le malattie effettivamente screenabili sono poche perché per questioni tecniche e per questioni legate al fatto che le nostre conoscenze sono ancora estremamente limitate nonostante l'immagine quello che le informazioni che tenderebbero a essere date al pubblico in realtà noi abbiamo ancora enormi difficoltà nell'interpretazione dei dati genetici per cui anche malattie che conosciamo da 30 anni molto spesso abbiamo delle varianti il cui significato non è chiaro e quindi non sappiamo dire se quella variante in questione sia patologica o meno e soprattutto che quadro può dare perché un conto è una variante che causa una malattia grave infantile è un conto che possa dare un quadro ai desordi a 50-60 anni e fra 50-60 anni chissà che perché come lei ricorda la malattia può essere a frutto di quella combinazione tra appunto i due genitori però una mutazione ex novo è sempre possibile giusto di solito sono a causa delle patologie dominanti e quelle sono poco sono poco sono poco prevedibili esistono anche ma in questo momento nessuna delle società scientifiche o meglio tutte le società scientifiche sono assolutamente molto caute nel proporre dei test genetici fatti alla ceca in epoca fetale noi gli unici test genetici che facciamo come screening è la classica di docente o di docente nelle donne con età superiore ai 35 anni per il rischio di anomalie cromosomiche la sindrome di Down e altre anomalie cromosomiche il cui rischio aumenta con l'età adesso abbiamo anche delle tecniche più moderne che possono fare questo tipo di analisi semplicemente su sangue materno e possono vedere e sono preziose perché sono ancora costose ma in realtà nell'economia con un occhio più vasto semplicemente andando a vedere i giorni di lavoro dopo una biocentesi o un'amniocentesi e i giorni e mentre rispetto a una semplice prelievo di sangue che non comporta nessun rischio per la madre chiaramente ci sono dei indubbi vantaggi e anche su questo ci si sta muovendo anche queste sono tutte metodiche che vengono fornite dal privato o dal pubblico in maniera privatistica per cui a pagamento questo di fatto allarga un po' la le possibilità diagnostiche a livello del feto perché si vedono le classiche anomalie cromosomiche ma anche delle anomalie più 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 piccole più difficili da individuare con il test standard però di fatto noi siamo ancora abbiamo dei test molto molto potenti che non applichiamo su larga scala ma solo nei casi in cui c'è una patologia fetale chiara quindi se io con il celigografista vedo una malformazione o altri problemi fetali noi possiamo fare dei test genetici anche molto raffinati però li facciamo solo nel caso di una malaria precisa farlo alla ceca è in questo momento estremamente difficile perché perché troveremo in ogni in ogni in ogni feto centinaia di varianti ed è difficilissimo in questo momento capire soprattutto se non so se il feto sia sano o malato anzi nella maggior parte dei feti sono sani quindi in questo senza poter correlare quello che si trova dal punto di vista genetico con con un quadro clinico effettivamente presente ebbene questo rende l'interpretazione dei dati estremamente difficile però voi state state continuando a investire in questi settori e sequenziature avete rapporti con delle reti europee in generale per capire per riuscire a fare le diagnosi in chi le malattie ce le ha perché in questo momento se noi riusciamo a capire nelle famiglie in cui c'è un paziente con una malattia che presupponiamo sia genetica ma non sempre sono malattie genetiche in senso stretto riuscire ad avere una diagnosi permette in quella famiglia di dire sì è una condizione che è a rischio o meno di ripetersi e poi proporre la diagnosi per natale la diagnosi per impianto o le altre opzioni che ci sono ma questo ripeto non è un qualcosa che in questa fase è proponibile a tutta la popolazione ma solo alle le condizioni a rischio mi pare che sia stato ben chiarito professore senta le faccio l'ultima domanda generica per capire un poco il trend di pazienti che hanno o sono a rischio di avere una vera malattia genetica com'è il trend allora sicuramente la nostra capacità di diagnosticare queste patologie è aumentata drammaticamente negli ultimi dieci anni negli ultimi dieci anni c'è stata una rivoluzione tecnologica che ha reso disponibili a degli strumenti che permettono di fare questo tipo di diagnosi con costi estremamente ridotti e con e con soprattutto in numeri sempre maggiori di pazienti il problema il problema è sono due tipi in questo momento quello che le dicevo è che siamo ancora molto indietro nella interpretazione delle varianti quindi quando noi troviamo qualcosa di diverso rispetto a quello che dovrebbe essere la la norma ma noi tutti abbiamo noi tutti abbiamo circa dei due in tre milioni di basi che hanno sono diverse da quello che dovrebbero essere ma questa è alla base della variabilità interindividuale se no saremo tutti identici però appunto non riesco a mostrarle ma Un'analisi genetica, ad ampio spettro, trova dalle 40-50 mila varianti che limitandosi solo alla parte attiva del genoma. E quindi bisogna capire, è chiaro che su 49 mila varianti, 39.999 o 39.998 non fanno nulla o non sono responsabili della patologia. Per cui bisogna avere dei sistemi per dire no, queste sono tutte cose benigne o comunque non correlate con la patologia che ha il paziente in questo momento. Allora, questo è il... e qui ci sono enormi investimenti in intelligenza artificiale, però rimane comunque un lavoro dove l'esperienza e la preparazione dell'operatore, e quindi del biologo o del medico che a volte fa la repertazione, quindi guarda questi risultati e dice sì, questa è la causa. Oppure no, dice guarda non troviamo niente o non troviamo niente che sappiamo interpretare. Allora, questo è in questo momento il fattore limitante, perché ancora, ed è il problema principale, è quello che noi come scuola di specialità stiamo cercando di formare sempre di più persone in grado di fare questo tipo di interpretazione. Però è complesso, è nata una figura che in questo momento al solito la burocrazia è sempre tremenda, che sono i bioinformatici, quindi persone che sono addestrate a trattare e non manipolare, perché il termine è sbagliato, ma interpretare e organizzare i dati biologici, quindi i dati genomici, che sono fondamentali nei laboratori di diagnostica, ma che in realtà non esiste un sistema attualmente per inquadrare nel sistema sanitario nazionale, per cui, oltre ad essere pochissime richieste dalle industrie, quindi è ancora un lavoro molto molto complesso e tante volte, tanto del nostro lavoro di ricerca è basato su sistemi in laboratorio per appunto validare quello che si trova, quindi io trovo, sono convinto che sia patologico, ma ho bisogno a volte di un sistema, di un esperimento, di un organismo modello, di un qualche sistema, ne abbiamo vari, che ci dica sì, effettivamente questa cosa è patologica. Insomma la strada la si sta percorrendo, ma è ancora molto lunga, se ho capito bene, professor Salviati, però l'importante è andare avanti. Dobbiamo chiudere, ringrazio allora Leonardo Salviati, che ricordo dirigere l'unità di genetica e epidemiologia presso l'azienda ospedale Università di Padova. Se ci fossero novità, se avrà piacere di metterci ogni tanto al corrente, aggiornarci sugli sviluppi, noi siamo qua, professore, sempre a disposizione. Le faccio un'ultima cosa per dire l'enormità della nostra ignoranza, perché il genoma umano contiene circa 20.000 geni, ma di circa la metà, noi non abbiamo la benché minima idea di cosa servono, tutt'ora. Come le galassie nell'universo, per cui voglio dire, ne abbiamo da imparare di cosa prima di... Va bene, la ringrazio. A presto allora, buon lavoro davvero, a presto. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.